Il risultato migliore 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 è importante, perché le giocatrici non sono riuscite a trovare il ritmo giusto, non hanno circolato bene in termini anche di rotazioni, non so per quale motivo, ripeto, ma in realtà è stata tutta una partita che è andata male. Passiamo alla giocatrice, stessa domanda, come mai non siete riusciti a dare quello che il vostro allenatore si attendeva? I'm proud of my teammates, we drove here, 20 hours to get here and we play slow and we didn't rotate on defense like we were supposed to and we didn't rebound and when they're making shots, which they did in the paint and you know free throw line, we can't start our fast break and that's our game where we play fast and we shoot threes and we didn't really get to a good rhythm in offense and our defense, I mean, you know, we had Spurs where we played good defense, but you know, we didn't play it when we made a run and they came back at us, our defense wasn't good, we were so strong. Premetto che io in realtà sono orgoglioso delle mie compagnie di squadra, abbiamo dovuto guidare 20 ore per arrivare fino a qui e quindi ovviamente tutte quante siamo stanche, effettivamente non abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo anche perché dal punto di vista della difesa soprattutto non abbiamo avuto delle rotazioni efficaci, inoltre siamo rimaste sempre più lente e il contropiede che normalmente ci caratterizza non siamo riusciti a farlo in atto. Nel momento in cui poi abbiamo avuto anche difficoltà con i rimbalzi nell'area pitturata non siamo riusciti a contenere l'altra squadra che ogni volta riusciva a rientrare in difesa su di noi anche quando cercavamo di lanciare un contropiede. Un giudizio veloce sul CRAS per chiedere? Un giudizio veloce sul CRAS per chiedere? Un giudizio veloce sul CRAS per chiedere? Sì, sono molto forti all'interno, giudiziano bene oggi, è un giudizio in casa, spero che voi sia il migliore di noi. Sicuramente il CRAS è molto forte in sottocanestro, ovviamente questa era in più una partita in casa e di conseguenza c'era da aspettarsi parecchio. Comunque sia vi auguro tutto il meglio per questo percorso. Grazie. Grazie molto.